Il caro energia dovuto ai prezzi del gas ed elettricità si fa sentire. Per capire meglio cosa dovremmo affrontare e come farlo poniamo qualche domanda a Andrea Cisilotto, responsabile retail Veneto Alperia. Abbiamo annunciato la sua presenza e l'ingegnere Andrea Cisilotto è con noi, graditissimo ospite. Bentornato dunque. Grazie ancora per il suo invito, dottor Capitini, è un piacere come sempre. Ed era un impegno quello di fare un'apparizione anche nell'ambito di Habitat, della nostra giornata Habitat e l'ambito poi della stazione, come ci piace chiamarla, che in qualche modo vede al punto Alperia di cui lei è responsabile, darete il Veneto quale patrocinatore. Senta, ma che cosa stiamo vivendo? Che momento è questo per le energie, i consumi, i gas e come lo vivete anche voi? Dottor Capitini, stiamo sicuramente vivendo un periodo senza precedenti. I mercati energetici infatti negli ultimi mesi stanno avendo crescite esponenziali, sia per l'energia elettrica sia per il gas metano. Posso farlo un paragone? Un anno fa, stesso periodo, nel 2021, il costo di ogni megawattora era di circa 100 euro megawattora. Questi giorni lo stesso megawattora viene acquistato a più di 500 euro, addirittura in alcuni giorni, in alcune ore questo supera i 700 euro. Ci troviamo un anno fa a 100, quest'anno siamo a circa 500. Sì, sì, sono numeri davvero impressionanti. Un aumento esponenziale, sì. Ecco, allora, a questo punto la prima domanda è quasi d'obbligo. Che cosa fare per cercare intanto di spendere di meno? Non deve essere la domanda delle mille pistole, che quella me la tengo per la fine, ma per iniziare credo che valga la pena rispondere. Sì, allora, sicuramente per spendere meno le variabili in gioco sono principalmente due. La prima riguarda i consumi e la seconda riguarda l'offerta economica che ognuno ha con il proprio fornitore di energia e gas. Beh, mi pare proprio logico. Allora cerchiamo di dare risposta ad entrambe queste domande. Partiamo allora dai consumi. Cosa direi? Allora, sui consumi è evidente che per risparmiare questi vadano ridotti il più possibile. Come si può fare? È abbastanza semplice. Se parliamo nel breve periodo, assolutamente dovremo adottare delle abitudini di consumo più virtuose. Ad esempio, se abbassassimo di uno o due gradi riscaldamento in casa, avremmo una riduzione dei consumi complessivi annuali di gas del 5-7%. Inoltre si può valutare quando possibile di rinfrescare o riscaldare solo ed esclusivamente gli ambienti dove viviamo durante la giornata e non, come spesso avviene, tutta l'intera casa. Un'altra cosa, se riuscissimo a ottimizzare l'utilizzo degli elettrodomestici, che questi hanno un forte impatto sui nostri consumi, anche in questo caso la riduzione sarebbe molto importante. Quanto incidono gli elettrodomestici, ingegnere? Incidono molto. Facciamo, non so, magari degli esempi. Buona parte di questi consumi che noi abbiamo in bolletta elettrica dipendono, ad esempio, da frigoriferi e congelatori. Questi in media incidono sulla bolletta elettrica per circa il 20% del totale. Allora, proviamo a pensarci un attimo. Il 20% del totale non è cifra di poco conto. A questo punto, mi dispiace anche ripetere le cose, ma meglio ripetere, si dice che giovi ripetere, accortezze che potremmo avere, semplici e praticabili, quali possono essere? Semplici riguardo i frigoriferi, può essere semplicemente evitare di aprire le porte inutilmente, oppure il consiglio che do è conservare gli avvelimenti tra i 3 e i 5 gradi. Sotto i 3 gradi i consumi del frigorifero aumentano notevolmente. Stesso discorso, magari per una lavastoviglie, avviare la lavastoviglie solo a pieno carico, con temperature tra i 30 e i 40 gradi, può portare a un risparmio di circa il 28% dei consumi. Ugual modo per la lavatrice, utilizzarla in un modo appropriato può comportare fino a un risparmio del 60% dei consumi, anche qui se viene utilizzata solo a pieno carico e con temperature che non superano i 30-40 gradi. Mi pare che siano tutte tra l'altro accortezze che si possono benissimo applicare. Una curiosità mi viene in mente adesso, mia moglie mi dice spesso, attento a chiudere il frigorifero, spesso in questo ultimo periodo in modo molto virulento, specialmente mi riprova da quando tengo aperto il freezer, la parte alta del frigorifero. Perché? Perché questo comporta una produzione di energia molto più alta, il frigorifero, diciamo, deve impegnarsi ancora di più per rinfrescare, scusi, la cella frigorifera o la cella congelatore e questo comporta un aumento, possiamo dire anche esponenziale, del consumo di energia appunto del maturale del frigorifero. Allora, pillole di energia... Magari se posso darvi un altro, magari un suggerimento, passiamolo dalla nonna, magari con la lavastoviglie anche tante volte per pigrizia ci sono tre bicchieri, si fa partire la lavastoviglie e questo è un comportamento che alla fine, su un mese o su un anno, aumenta di molto i consumi. Ed è proprio qua quando parlo di comportamento virtuoso a cui mi riferisco. Allora, lo sapevo, ingegnere Cisilotto, che il tempo non sarebbe bastato, perché tra l'altro vorrei che proseguissimo ancora su questi accorgimenti e suggerimenti, magari vedendo in una prossima pubblicazione di Abita, tra una settimana esatta, di allargare lo spettro al tema anche del medio e lungo attenzionamento rispetto a quello che stiamo dicendo. Quindi, insieme, allora, amici, vi diamo appuntamento per la prossima giornata Abitat. Io ringrazio Andrea Cisilotto, a rete il Veneto di Alperia, è il responsabile. Gli diamo appuntamento, mi odierà a questo punto perché è un momento di grande visibilità, però quando io ho un ospite che merita me lo tengo ben da conto, perché, le ho già detto e le ripeto, c'è grande professionalità, ma soprattutto quella che deve passare, che è una comunicazione molto chiara. Quindi, ingegnere, alla prossima, come ai nostri amici, e adesso andiamo con la sigla di Coda. A presto. Grazie mille, arrivederci. Grazie mille, arrivederci.